La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa. Partiamo con il mattino, andiamo a vedere in apertura il caso Craxi, debacle del Movimento 5 Stelle. Il governo rischia l'elezione alla Commissione Esteri della Senatrice. Conte avvisa Draghi, è nata un'altra maggioranza. E poi l'energia, aiuti dall'Unione Europea, più carbone e nucleare, pronti 300 miliardi per ridurre la dipendenza dal gas russo, Draghi sia a Helsinki nella Nato e altre armi a Kiev se necessario. A Mariupol l'assedio infinito, all'acciaieria il mistero degli Azov, i capi non sono usciti. E poi i piani del Cremlino dopo l'evacuazione, Putin non si fermerà, l'obiettivo è il Donbass. Di lato, Palazzo Chigi, atto ostile. Parla di atto ostile, Palazzo Chigi schiaffo all'Italia 24 diplomatici espulsi da Mosca. Centropagina con la cronaca, la tragedia dell'auto senza guida piombata nel giardino dell'asilo. E' successo all'Aquila, era parcheggiata in discesa, senza freno a mano e morto un bambino. Lasciamo la prima pagina del mattino e andiamo a vedere che cosa c'è in primo piano. L'abbiamo visto dall'apertura. Esteri, Movimento 5 Stelle, Infrantumi, Conte attacca il Premier. Per la guida della commissione eletta Stefania Craxi, decisive le divisioni grilline. Il leader minaccia la crisi, Draghi deve garantire la tenuta della maggioranza. Un'elezione deflagrante, quella di Stefania Craxi, alla presidenza della Commissione Esteri del Senato, che sta facendo implodere il Movimento 5 Stelle e che, parole di Giuseppe Conte, disegna una nuova maggioranza di governo che va da Fratelli d'Italia a Italia Viva. Un complotto per l'ex Premier che punta il dito contro Mario Draghi. Ora tenga in piedi la maggioranza. Tutto si è consumato ieri mattina, quando la senatrice azzurra Stefania Craxi ha preso il posto del pentastellato Vito Petrocelli, espulso dal Movimento 5 Stelle per le posizioni filoputiniane sulla guerra in Ucraina. Alla guida della terza commissione di Palazzo, Madame Craxi ha prevalso su 5 Stelle Ettore Liccheri, che ha avuto nove preferenze contro i dodici ricevuti da Craxi. Per lei ha votato il centrodestra, per l'esponente del Movimento 5 Stelle le preferenze sono arrivate dal gruppo e dal PD. Così a decidere sono stati i voti del gruppo misto. E vediamo che cosa dice lei di taglio basso. L'intervista a Stefania Craxi, la lezione di mio padre Bettino, l'Italia filo-atlantica ma non succube degli Stati Uniti. Sulla politica estera un grande paese non può dividersi, Petrocelli inadatto, mi è dispiaciuta l'assenzione di Casini. E poi, bene, la compattezza del centrodestra, Conte irritato, chieda spiegazioni a Di Maio, sono nello stesso partito. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti. Andiamo a vedere quali sono le mosse della Commissione Aiuti Europei da 300 miliardi per lo stop al gas russo più carbone e nucleare, più rinnovabili, ma atomo e fossili necessari per i prossimi 5-10 anni, per il Repower You, subvenzioni oltre a 225 miliardi di prestiti. Andiamo a vedere. Quasi 300 miliardi di euro per accelerare sull'indipendenza energetica da Mosca. Il piano Repower You, svelato ieri dalla Commissione Europea, spinge sulla transizione verde sulle rinnovabili, ma nell'immediato si rivolge anche a carbone e nucleare, perché tutti gli strumenti servono per staccarsi rapidamente dalle forniture russe e azzerarle entro il 2027. Non abbiamo scelta, dicono a Bruxelles, spiegando che il piano non mette in discussione gli obiettivi del Green Deal. Atomo e carbone dovranno produrre rispettivamente 140 terawatt di energia nei prossimi 5-10 anni, un aumento del 5% nel mix energetico europeo. E andiamo avanti. Rimaniamo ancora sul mattino. Le tensioni internazionali. Difesa. Primi 500 milioni per gli acquisti in comune l'Europa rifà l'arsenale. Subito sistemi antimissile, poi droni, fregate, carri armati e cybersicurezza. Piano per rafforzare l'interoperabilità tra forze armate e sostenere le imprese. Un altro tassello, stavolta industriale, per la costruzione della difesa europea. È anche un tabù che si infrange nelle stanze europee, quello di una spesa comune per finanziare l'acquisto congiunto di armamenti. Bruxelles stavolta vuole fare sul serio e comincia dei 500 milioni di euro messi subito sul tavolo. Una prima assoluta per fondi del bilancio europeo che vengono mobilitati a sostegno della spesa militare, dopo essere stati sottratti ai capitoli destinati alla ricerca e allo sviluppo. Rimaniamo su questa pagina di taglio alto. La Russia espelle 24 diplomatici italiani, palazzo Chigi, atto ostile ma dialogare. 85 diplomatici italiani, francesi, spagnoli, espulsi in un giorno dal Cremlino. Il 5 aprile i paesi europei decisero l'allontanamento di 200 diplomatici russi in seguito alle rivelazioni sulle atrocità commesse a Buccia dall'esercito di Putin. L'Italia in particolare ne aveva mandati via 30. Ieri è arrivata la ritorsione di Mosca che ha espulso 24 diplomatici italiani. Questo provvedimento ha riguardato, abbiamo detto, anche francesi, sono stati 34, e spagnoli. 27. Cambiamo pagina. La Nato. Draghi. Sì a Helsinki. Altre armi a Kiev se serve. Il Premier riceve Sanna Marin. Accelerare l'adesione di Finlandia e Svezia all'Alleanza e la leader finlandese. Abbiamo un esercito forte, contribuiremo alla sicurezza di tutti. Vogliamo aiutare l'Ucraina a difendersi. Lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. Mario Draghi nel giorno in cui l'Italia dice formalmente sì all'ingresso della Finlandia nella Nato, ospitando a Palazzo Chigi la Premier di Helsinki. manda un segnale a Giuseppe Conte e Matteo Salvini della serie. Inutile continuare con le sceneggiate contro l'invio di armamenti a Chievo e il mandato del Parlamento e andrò avanti se serve fino al 31 dicembre perché così ha deciso l'Unione Europea e l'Italia è un membro. Leale parole che più o meno il Premier italiano ripeterà oggi in Parlamento durante la doppia informativa. Prima al Senato, poi alla Camera, ma con più garbo vista l'attenzione alle stelle nella maggioranza di governo. E con questo lasciamo il mattino, ci spostiamo su cronache. In apertura, Covid e mascherine. 23 persone indagate, regione nella bufera, nel Mirino, i tre ospital in Campania. A Salerno i periti hanno accertato che sui 24 posti previsti ne sono stati consegnati 12. Mancavano gli spazi per i rianimatori. A Coscioni viene contestato il reato di turbativa d'asta in concorso. Sotto la testata cresce la febbre granata, rechi e caccia al biglietto. Piero De Luca al comune, maxi schermo al vestuti. Il questore, limitazioni in Via Roma e sul lungomare. Di lato le fonderie Pisano, nesso di casualità con le morti, non si può accertare, quindi si può delocalizzare. Centro pagina, città nel degrado, moderati contro Natella. L'assessore sul banco degli imputati, presto sarà convocata la De Roberto. Il partito di Salsano chiede spiegazioni all'assessore. E poi sempre Salerno, Nicola Di Riuccio e il re degli infissi in Campania. Di taglio basso a Pagani. Commercio in crisi, calcio e sessa accusano l'amministrazione. A Bellizzi, scarichi abusivi, assolto il sindaco Mimmo Volpera, indagato con Nello Fiore. E a Battipaglia, il preside Palo, anche con il Covid, l'istituto fiorentino non si è fermato. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Eccoci di nuovo in studio. Riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno. In apertura si parla delle fonderie Pisano-Bonavitacola. Accuse ai Pisano, delocalizzazione, nessuna richiesta alla Regione. Il vicepresidente, dubbi sulla volontà dell'azienda, comportamento grave e ingiustificabile. Napoli al tavolo del comune, a fratte, non possono più stare. E il dibattito su questo, a Buccino, gli aspiranti sindaci si dividono, più controlli, attendiamo i giudici. Di lato, SOS dei residenti nel centro storico a Salerno, assediato dalle Vespe, l'ASL ci aiuti. Andiamo sul centro pagina. Con la salernitana Arechil, sold out annunciato, pressing per il maxischermo. Iervolino fissa il premio Sarbezza a 3 milioni. Rimaniamo sul centro pagina. Offeso in campo perché è nero, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Parla il calciatore dell'atletico Pichot, il giocatore è solo una partita, mi chiedo il perché di tanta cattiveria. E la replica della società finita nel mirino, il faiano che va al contrattacco tutto falso, ci hanno provocato. Di lato la svolta verde pubblico, vince la ISAM che assumerà 58 ex operai Coop. Poi il piano spesa dimezzata per le discariche, ma resta lo scontro sui costi di gestione. Lasciamo la prima pagina e andiamo a vedere in primo piano. Delocalizzazione Pisano, stoccata di Bonavitacola. Il vicepresidente della regione, l'azienda, non ci ha ancora chiesto l'autorizzazione. Parla di comportamento grave e ingiustificabile, che mette in dubbio la volontà di trasferirsi. Un impegno istituzionale non permette a Fulvio Bonavitacola di raggiungere Salerno e prendere parte al tavolo tecnico sulle fonderie Pisano, riunitosi ieri mattina a Palazzo di Città. La regione Campania è rappresentata dal direttore generale del ciclo delle acque e dei rifiuti, Antonello Barretta. Ma il vicepresidente, assessore regionale all'ambiente, non si sottraia un commento su quello che definisce un problema non più procrastinabile, partendo dal fatto che gli imprenditori di Fratte non hanno ancora presentato agli uffici della regione le richieste di Paolo. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale esprime la sua perplessità. Bonavitacola non solo parla di comportamento grave, irresponsabile e ingiustificabile, ma non nasconde neppure forti dubbi sulle effettive volontà dell'azienda di delocalizzare. Andiamo avanti, sempre sul mattino. Andiamo ad Eboli. Addio alle case per i treni. Noi famiglie deportate, un dramma nel silenzio. Alta velocità, 54 abbattimenti. I cittadini interessati protestano. Incontro con Adelizzi del Movimento 5 Stelle hanno diritto, dice, a risposte chiare. A Bellizzi, fogne inquinanti, assolto il sindaco Volpe. Castellabate, illuminazione subacquea per l'antico porto romano. La cronaca battipaglia, tentata rapina, coppia tradita dalle telecamere. Appollica, biodiversità, giovani esperti a confronto nella giornata mondiale della biodiversità. Di taglio basso, gravi carenze negli ospedali dell'area sud, il dossier di Pierro della Lega a De Luca. E poi andiamo a Polla. Luigi Curto, due neonati prematuri salvati al punto nascita. Due episodi in pochi giorni evidenziano come il punto nascita serva in prossimità dei territori, come il Vallo di Diano, il Golfo di Policastro e i tagli. In base ai numeri, in una mera logica matematica, possano far prendere decisioni sbagliate, come già avvenuto con il taglio del Tribunale di Sala Consilina. I due episodi riguardano il Vallo di Diano, ma potevano riguardare allo stesso tempo il Golfo di Policastro e il Cilento. Riguardano quindi i reparti di ostetrice e ginecologia del Luigi Curto. E lasciamo con questo il mattino, ci spostiamo su Cronache. In primo piano, appalti Covid Hospital in Campania, 23 persone risultano indagate. Tra questi, il manager dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Berdoliva, per frode in pubbliche forniture. L'inchiesta è suddivisa in tre filoni, coinvolta anche la città di Salerno. Turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture sono le ipotesi di accusa per le 23 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sui Covid Hospital Campani. Suddivise in tre filoni riguardanti gli ospedali modulari di Napoli, Caserta e Salerno. Sono indagini condotte dal pool composto dal magistrato Artiduro De Roxas di Mauro e Budcock. Gli indagati sono chiamati a spiegare i contenuti delle chat e delle conversazioni intercettate. L'inchiesta riguarda le forniture di mascherine per bambini e una serie di presunte appropriazioni in debite di tamponi e mascherine da parte del personale sanitario e verdoliva, a cui il pool di magistrati contesse reati di turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture. Avrebbe falsificato con un contratto anticipando la data del subappalto. Al Ruggi di Salerno avrebbero dovuto essere 24 i posti letto, ma secondo i consulenti dei PM le forniture realizzate sarebbero state la metà del previsto. Insufficiente sarebbe stato lo spazio destinato ad ogni singolo posto letto, non a norma perché complicherebbe eventuali manovre rianimatorie. E andiamo avanti. Per le discariche presenti nel Salernitano i costi di gestione sono ormai dimezzati. Il costo è passato dai 5.088.000 euro del 2016 ai 2.319.000 del 2021. Sono gestite dall'Eda Salerno. Dunque, più che dimezzati i costi di gestione delle 5 discariche di rifiuti presenti in provincia di Salerno, anche se la loro operatività è ormai terminata, per la legge bisogna prendersene cura per i successivi 30 anni. Un compito che viene svolto da Ecoambiente Salerno, società operativa dell'Eda. Il costo è passato da oltre i 5 a 2 milioni. Pur, se non accolgono più rifiuti, spiega Vincenzo Petrosino, presidente del CDA di Ecoambiente, le discariche ha bisogno di una continua attività di gestione e manutenzione ordinaria. Se si viene svolto in maniera attenta, come stiamo facendo, dice che questi costi possono essere contenuti e ridotti. E si tratta di un andamento costante negli anni. Nei costi di gestione sono compresi anche i tre siti di stoccaggio delle ecoballe. Rimaniamo ancora su cronache. Andiamo nel Cilento. Sempre più allarme cinghiali. Troppi danni alle coltivazioni e residenti. Da anni la popolazione di cinghiali tocca un numero molto elevato a causa di un'eccessiva moltiplicazione degli esemplari. Luoghi ideali diventano i campi coltivati dall'uomo, così come i piccoli terreni. L'ente parco prevede degli indennizi, ma i fondi sono sempre più esigui. E con questo termina la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio di averci seguiti e vi auguro buona giornata. Grazie.